Ciao e benvenuti su Emozioni Delicate. Oggi vi accompagno alla scoperta del film d'animazione musicale Scrooge Canto di Natale, uscito nel 2022. Questo film offre una rinfrescante interpretazione del classico romanzo Canto di Natale dello scrittore inglese Charles Dickens. Il suo racconto incarna valori cruciali come la generosità, la gentilezza e il pentimento, promuovendo un forte senso di compassione e il potenziale per un cambiamento positivo. Un'emozionante testimonianza della potenza della redenzione e della trasformazione personale, ispirandoci a guardare al futuro con speranza, a superare i nostri errori passati e a abbracciare la gioia del cambiamento altruistico. La trama si concentra sulle avventure di Scrooge e del suo cane prudence in un viaggio nel tempo che rivela come il passato di Scrooge influenzi il suo presente e indichi un percorso verso un futuro migliore. Scrooge è dipinto come una figura cinica e misantropa che disprezza la festività natalizia e tutto ciò che la circonda, gli incontri con familiari e amici, lo scambio di regali e la gioia legata alla grazia, alla misericordia e alle benedizioni divine. Apertamente, Scrooge esprime il suo disprezzo per il Natale, considerandolo una frode o una farsa. Egli contrasta attivamente la gioia e la condivisione dello spirito festivo, preferendo diffondere il timore piuttosto che la gioia del Natale. La visita dello spirito del suo defunto socio Jacob Marley, condannato a causa della sua avidità, avverte Scrooge che se non cambierà il suo comportamento egoista, subirà la stessa sorte di Marley. Tuttavia, Scrooge riceverà l'aiuto di tre spiriti inviati da Jacob per guidarlo verso un cambiamento personale, aprendo così la strada a un possibile riscatto e redenzione per il cinico usuraio. La storia di Ebenezer Scrooge, protagonista del racconto di Charles Dickens, è familiare a molti, e questa versione del suo viaggio rimane fedele alle sue radici. Il rilascio di questo film offre una nuova occasione per apprezzare il significato intrinseco della storia, sottolineando il tema della redenzione che può dare a tutti noi motivo di gioia per la salvezza offerta. Nel film, si sentono più volte persone che invocano la benedizione divina e altri che descrivono la vita come «un inferno vivente». Un uomo richiama un passo del «buon libro» parlando al prete riguardo alla morte futura di Scrooge, raccogli ciò che hai seminato. In una canzone, Scrooge esprime il desiderio che la storia si concluda, con un forte «amen». Questi riferimenti svelano elementi del folclore spettrale e della spiritualità presenti nella storia, con richiami alla religione e concetti di redenzione, giudizio e responsabilità personale. Si sottolinea una verità importante, siamo tutti peccatori e possiamo tutti cambiare. Grazie al miracolo del Natale, non è mai troppo tardi. Il film evidenzia l'importanza del messaggio di redenzione e cambiamento nella storia di Scrooge, offrendo la possibilità di trasformazione per ognuno di noi, nonostante i nostri difetti e gli errori passati. Scrooge, un uomo ostile, avaro ed egoista verso il Natale, alla vigilia di quest'ultimo, viene visitato inaspettatamente dai tre fantasmi, introducendo il tema della sua possibile trasformazione attraverso il loro aiuto, il passato, il presente e il futuro. Questi fantasmi, su richiesta del defunto socio di Scrooge, Jacob Marley, sono lì per condurlo attraverso i momenti più significativi della sua vita e aiutarlo a comprendere il suo impatto sulle persone intorno a lui, al fine di spingerlo a cambiare prima che sia troppo tardi. Durante questo viaggio, lo spettatore può godersi coinvolgenti numeri musicali pieni di colore. E promuove la generosità, la gentilezza e il pentimento. Grazie per l'ascolto. Ti invito a condividere il video e ad iscriverti al canale per esplorare altri contenuti e storie coinvolgenti come questa.